Cosa non si fa per salvare le Olimpiadi? Il governo giapponese da lunedì sospenderà lo stato definito di quasi emergenza in tre prefetture del paese, in linea con il calo dei casi di Covid. Ma Tokyo, dove dal 23 luglio all'8 agosto sono in programma i giochi olimpici, lo stato d'emergenza durerà almeno fino al 20 giugno, 33 giorni prima dell'accensione della fiaccola olimpica. E secondo i sondaggi, 4 giapponesi su 5 vogliono che le Olimpiadi vengano ulteriormente rinviate. Spiega il responsabile OMS in Giappone. Non vogliamo che la gente si sposti troppo. Questa è la nostra necessità. Mi sembra impossibile che le Olimpiadi possano essere completamente aperte al pubblico. Ci saranno restrizioni anche nel periodo dei giochi, con possibili tamponi per gli spettatori. La campagna vaccinale comunque va a rilento. Giovedì è stato raggiunto il traguardo delle 20 milioni di vaccinazioni, ma su 126 milioni di abitanti, cioè il 12% della popolazione, ma solo il 4% ha ricevuto la doppia dose. La fiamma olimpica intanto sta continuando il suo viaggio verso Tokyo.